Salve ragazzi, bentrovati a tutti. Oggi facciamo un tutorial sulla gestione del neutrale. Ne ho già fatto uno, ma questo è più, diciamo, a livello mentale, perché c'è un fraintendimento di base per quanto riguarda Street Fighter VI, e cioè che c'è l'ossessione di controllare tutto. Non siamo dei supereroi. Partiamo da questo presupposto. Nessuno di noi sa reagire a 10 cose contemporaneamente. Questo è vero per i giocatori neofiti, ovviamente, ma è vero anche assolutamente per i giocatori professionisti. Street Fighter è pensato in questa maniera. È pensato per avere più opzioni da tener conto, ma non poter tener conto di tutte le opzioni contemporaneamente. Questa è una grande differenza con gli altri Street Fighter. Che cosa quindi dobbiamo fare per prevedere le opzioni dell'avversario e reagire? Dobbiamo fare un semplice calcolo statistico, ovvero decidere in qualsiasi situazione, in base alla nostra posizione sullo schermo, alla posizione sullo schermo dell'avversario e allo stato delle nostre barre, quale azione compiere. Questa teoria si chiama Mental Stack. Voi provate ad immaginare il vostro cervello come un computer che ha della RAM. Quando la RAM è satura non si può far partire nessun altro tipo di programma. Quindi dobbiamo cercare, data la nostra RAM limitata, che ripeto è ampliabile ma neanche più di tanto, di ottimizzare, di includere all'interno di questa RAM mentale quelle che sono le azioni più comuni dell'avversario. Questo è il cosiddetto Mental Stack. Di conseguenza, se noi percepiamo come estremamente pericoloso, ad esempio quando siamo nell'angolo, il Drive Impact, il nostro Mental Stack deve pensare solo al Drive Impact, il che significa che sarà vulnerabile a prese, a salti, a dash, a normal e a tutto il resto, ma a noi interessa difenderci dal Drive Impact. Quindi tutte le altre cose che possono accadere dobbiamo necessariamente lasciare che accadano. È normale. Non impazzite se non riuscite a controllare tutto, perché nessuno riesce a controllare tutto. Detto questo, io proverò a darvi delle applicazioni pratiche di questo Mental Stack, farvi capire, proverò a farvi capire come funziona e come dovete utilizzarlo invece a vostro vantaggio, a seconda di quelle che sono le opzioni più popolari, indipendentemente dal personaggio, in ogni determinata zona dello schermo. Cominciamo. Partiamo ovviamente dal mid-screen, che è il round one fight, quando i due contendenti si trovano uno contro l'altro. Qui ci sono diverse opzioni di cui tener conto, però fondamentalmente il discorso è battere gli anti-air. Questo deve essere il vostro primo obiettivo, specialmente quando siete dei neofiti. Quindi io vi ho già spiegato che c'è l'allenamento semplificato dei salti, lo fate e iniziate ad allenare il vostro Mental Stack ai salti dell'avversario. È importante che lo facciate mentre vi muovete, perché in realtà in partita voi non state mai fermi. Di conseguenza non vi allenate stando fermi, perché è una cosa che non succederà mai in partita. Dovete essere sempre in movimento. Quindi, se siete dei neofiti, il vostro Mental Stack, specialmente se utilizzate personaggi che sparano, deve essere primo posto. Diciamo, diamogli un 80-90% della mente anti-air. I salti dell'avversario. Guardare se l'avversario salta è batterlo. Fidatevi che soltanto questo concetto vi porterà molto più in alto. Per quanto invece riguarda le normal, io vi ho spiegato la teoria del cubo, ovvero mettervi distanti il giusto dalla normal più lunga dell'avversario. Quindi, se volete aggiungere un altro layer, un altro piccolo passettino all'interno del vostro progresso da giocatori, aggiungete il discorso del cubo. Quindi cercate di rimanere fuori dal campo d'azione dell'avversario e contemporaneamente stare attenti agli anti-air. Ovviamente questo Mental Stack deve cambiare dinamicamente a seconda del tipo di avversario che avete, perché non vi scordate mai che questo è un gioco uno contro uno, con due cervelli che si interfacciano l'uno con l'altro. Di conseguenza, a seconda dell'avversario, dovete alterare il vostro Mental Stack. Se io mi trovo contro un avversario, anche adesso a livello master, che salta di continuo, io lascio perdere tutto il resto e penso soltanto al salto, rendendomi vulnerabile ai drive-impact, ai dash e a tutto il resto. Ma è un calcolo da fare. Quindi, se siete contro avversari salterini, fermatevi. E per fermatevi non intendo state fermi, intendo continuate a muovervi, ma mentalmente dovete essere fermi. Dovete pensare solo anti-air, battere il salto dell'avversario. Se l'avversario vi ha già dimostrato nei precedenti round, invece che uno che gioca a terra senza molti problemi, magari deprioritizzate il discorso anti-air e pensate a scambiare. Pensate alla teoria del cubo, a stare fuori dalla normal più importante. Per quanto invece riguarda il vostro angolo, quindi voi che mettete all'angolo l'avversario, è molto più semplice, perché il range d'azione dell'avversario è più limitato. Ovviamente avendo le spalle a muro c'è un movimento molto limitato che può fare. Quello che dovete stare attenti a fare è quindi battere le sue normal, stare fuori e battere le normal che tira, stando in questa posizione attenti anche qui al salto. Quindi mantenere il posizionamento, stare attenti alle normal, stare attenti al salto. Ovviamente economizzate a seconda delle vostre necessità. Se avete uno che salta sempre fuori dall'angolo, ancora una volta 100% mental stack sull'anti-air. In generale, lo ripeterò spesso, l'anti-air è una costante, perché è un aspetto davvero importante. Se vi saltano in testa è praticamente la vostra porta, il vostro portone, il portone della vostra difesa che si apre all'offensiva dell'avversario. Deve essere la base di tutto. Cambiamo invece. Quando siete voi ad essere all'angolo, dovete stare attenti al drive impact, fondamentalmente. Quindi, ditino sul drive impact, uso il mignolo per esempio, e cercate di pensare soltanto a quello. Quindi difendetevi, cercate di trovare un pertugio all'interno dell'offensiva dell'avversario. Ovviamente questo è un tutorial generico e va specificato in ogni matchup, come ci si libera della pressione, ma soprattutto state attenti al drive impact. Lasciate perdere l'anti-air quando siete dei neofiti, drive impact e anti-air quando siete un po' più avanzati e riusciti a fare anti-air con certezza. Quindi questi sono i mental stack. Come vedete, a seconda della posizione dello schermo cambiano le vostre priorità. Partite sempre dal presupposto che è impossibile reagire a tutto. Fate pace con questa cosa qui perché è una costante del gioco e cercate sempre, in base anche al tipo di avversario, di dare priorità all'azione più pericolosa in un determinato momento. Ovviamente il drive impact diventa ancora più pericoloso nella vostra lista di priorità quando siete in burnout. Questo è quanto, io spero che questo tutorial vi sia servito a mettere un po' d'ordine all'interno della vostra mente e ci vediamo al prossimo video.